Buonasera, allora io sono da Zara in questo momento, sto dando un'occhiata alla nuova collezione quindi ho pensato di girare un video e farvi vedere cosa c'è della nuova collezione ci sono cose carine, mi sono un paio di borse che non mi dispiacciono quindi niente, vi farò vedere un pochino che cosa ho trovato Allora, sto provando questa borsa che devo dire mi piace un sacco, è super carina e di quelle che vanno di moda insomma adesso e ha questa catena piuttosto spessa e davanti azzurrina con questo motivo materassero e l'ho trovata anche in altri colori, qua costa 229 SAR, che sono più o meno 5.000 di euro l'ho trovata anche in questo colore, che è super carina, è la versione mini la catena devo dire che non mi dispiace, è fatta molto carina, mi piace, cioè sinceramente la comprerei molto carini anche questi sandaletti, questi se ce ne avessero in cuoio mi piacerebbero veramente carini, questi anche non mi dispiacciono ma il colore mi lascia un po' desiderare questo mi piace un sacco, questo è molto mio stile, bianco fatto così, lungo, quindi nei piedi con la spallina e un tessuto tipo lino, sembra simillino ho trovato anche questa borsa in questa versione, in stile raffia diciamo non mi convince per niente questa che carini questi pantaloni con questi bottoncini non vi faccio vedere i prezzi semplicemente perché i prezzi qua sono chiaramente molto diversi rispetto all'Italia ma questi bottoncini mi piacciono tanto e ci sono anche in rosa, tipo pantaloni da ufficio questo vestito visto da lontano mi ispirava un sacco, questo è molto vestito Silvia anche se in realtà costa carissimo, costa 300 SAR quindi anche no, però è molto carino ho anche beccato questa in stile diciamo le Valentino Rockstar 29 non mi entusiasma particolarmente ma se vi piace il tipo insomma vabbè questo è il prezzo in Arabia Saudita tra l'altro ho anche un sacco di queste scarpe in stile a Minamuadi quindi ce ne sono veramente tante l'ho vista anche in altri colori ecco queste scarpe ci sono anche in giallo e anche in color cuoio, è bello questi già mi piacevano quando avevano proposto il primo tipo di modello sono super carini questi shorts qua entriamo nella zona colori che piacciono a Silvia guardate il carino, questa mi piace veramente un sacco, molto bella ma qui non oserei andare in giro con quella vestitino semplice azzurrino questo è carino devo dire che questa fantasia non mi dispiace per niente, è carina comunque da Zara no, i pantaloni devo dire un colore simile, anche stile simile a quelli che vi ho fatto vedere in uno dei miei ultimi video hall quindi hanno un modello più o meno simile queste sono color Silvia, molto carine questo anche devo dire che non è male, non so se lo metterei qui però è carina la fantasia, anche il tessuto non è malvagio ah e c'è anche questa versione qui ah che carina anche questa versione, carina, bellina questo è un tessuto un po' diverso però questa l'ho beccata anche in verde carina anche questo verde, non ho niente di, cioè non saprei con cosa abbinarla però è molto carina anche questa scoppata anche in beige chiaro carina anche questa no vabbè questo colore mi piace un sacco però la catena è argentata qui bella però questo vestito me lo comprerei, mi piace un sacco carino anche il tessuto bello questo pantalone credo sia il pantalone più amato di Zara, l'ho comprato in altri colori in un colore più chiaro, diciamo un azzurino chiaro ed è molto carino qua costano veramente tantissimo 199 sar, tipo 50 euro però sono veramente bellini e ci sono in diversi colori no vabbè questo è un altro colore sindia? bello, questo mi piace un sacco 149 sar, neanche così eccessivo e anche il blazer abbinato, molto carino non mi dispiace per niente questo color salvia e ci sono anche scarpe sempre color salvia questo secondo me è molto carino questo colore ho fatto cercando un pantalone da ufficio semplice questo qua secondo me è molto carino con i bottoni e la tasca fatta in questo modo questo è il prezzo in Arabia questa camicia mi ispira un sacco per l'ufficio ho messo con un paio di pantalone a sigaretta sotto ha tutti questi bottoni dorati ed è oversized questo è molto carino secondo me qui siamo nelle patte vestiti questo vestito l'avevo visto in color salvia mi piaceva un sacco però ha veramente un sacco di buchi vi tenete conto che ha tutto questo buco, questi buchi laterali era molto carino però vederlo così, vediamo se ce l'hanno no direi che non ce l'hanno, peccato avrei voluto vederlo almeno dal vivo tra l'altro è carina questa giacchettina carina i accessi sono anche in nero è carina andate ancora in vacanza da questa parte questo è super carino secondo me da mettere in vacanza carino, mi piace un sacco io non amo particolarmente questi con le spalline fatte così però è carino secondo me allora appena finito sono alla fine riuscita a comprare qualcosa non ho comprato niente di pazzesco però qualcosina ho comprato in particolare un paio di leggings allora sono anche venuta la Ted Baker dove hanno dei saldi pazzeschi hanno veramente delle cucchie mi sono innamorata di questo paio di scarti qua e anche di queste sneakers hanno super saldi, super super non so se mi faranno provare perché è per dire il covid però vedremo questa giacchetta è veramente carina mi piace un sacco guardate questa gonna la meraviglia questa è veramente bella questa l'adoro veramente carina questa è super carina mi piace un sacco con questo peplon sotto questa mi piace cioè questa già mi era piaciuta un'altra volta è in scontata 365 SAR sono riuscita a comprare anche da Ted Baker ho preso una cosa che non vi aspettereste mai certo in realtà l'argomento è semplicemente borse però in realtà è il colore che non vi aspettereste mai il colore è un colore che allora di borse sinceramente ne ho avuta forse una sola in tutta la mia vita di questo colore però mi sono resa conto che mi manca e quindi ho deciso di prenderla dovrò starci veramente molto molto attenta comunque niente ve la farò vedere volevo concludere un pochino meglio questo video perché mi sembrava proprio di averlo fatto un po' alla veloce però sapete che qui non è che possa tanto tanto registrare posso registrare qualcosina ma non esagerato anche perché poi mi guardano malissimo comunque alla fine la collezione devo dire che non mi ha entusiasmato particolarmente allora probabilmente ci sarebbero state cose che mi sarebbero piaciute molto fosse stata in Italia ma essendo qui tante cose sapete non posso mettere per esempio con questo paio di leggings che ho preso in realtà avrei voluto prendere una camicia c'era questa camicia molto bella morbida ve l'ho fatta vedere sicuramente ve la indico dopo e volevo prenderla perché mi piaceva l'idea rimetterla con una cintura che stringesse in vita con i leggings sotto però al tempo stesso era trasparente e quindi mi ha bloccato questa cosa quindi le trasparenze purtroppo mi bloccano quasi sempre e niente adesso vado a recuperare Andrea perché siamo qua con Andrea e niente noi ci vediamo al prossimo video e ci vediamo al prossimo video e vi aspetta